1 a 1 l'avevamo detto l'avevamo detto, mannaggia la miseria un nervoso guarda ha segnato il giocatore che se ne va da non penso se segna lui che se ne va ciao a tutti da Jumpy avevamo detto 1 a 1 prima e 1 a 1 è stato risultato giusto ovviamente giusto il pareggio è il risultato più giusto perché hanno giocato tutti e due le squadre hanno avuto occasioni anche se a me personalmente mi brucia perché proprio alla fine beccare il gol eh ma tira 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 e dai non vuol dire un cazzo comunque però sono un po' castornato e niente il pareggio è stato adesso vediamo domenica un punto che onnestamente serve a poco sia tutta due squadre perché alla Sampa avrebbe fatto come di essere a 36 e alla Roma a 43 perché adesso è 41 giusto? eh chi c'è a 43? l'Inter andavano sopra l'Inter si eh quarto posto comunque posso dire una cosa uno deve giocare in scida al primo minuto perché se non lo fai giocare si demoralizza stasera ha giocato bene quel poco che è entrato non so due sto lì balatulco vabbè un der lì un der ceci non so neanche come cazzo si chiama un der è troppi errori in difesa nostri e meno male che abbiamo almeno Alisson però è da vedere l'anno prossimo chi rimane perché ma non demordiamo è così comunque è stato piacere vedere la partita con il Giampi il rigore c'era anche se c'era anche il fallo prima eh a me sono caduti altri capelli nel frattempo per la tristezza vabbè dai comunque siamo contenti un pareggio con la Roma che comunque è una grande squadra io personalmente sono contento mi brucia perché alla fine ci credevo nei tre punti ma pazienza va bene così vabbè vuol dire che a Roma segniamo prima così non ti brucia eh ho paura che a Roma sarà più dura di stasera comunque comunque un'altra cosa è una bella squadra anche da Sampdoria va diciamo eh speriamo che gioca bene gioca bene il sesto posto ci sia e che non venda giocatori buoni se no si va a rinforzare sempre la Juve detto questo vabbè vediamo domenica cosa succede tanto ci vediamo prima con i pronostici ciao a tutti da Giampi buonanotte da Marco ciao a tutti forza Samp sempre sempre sempre